Domani in aula ci sarà anche il voto finale sul mille proroghe, lei come voterà? Sul mille proroghe voterò contro perché è davvero incredibile che un governo tecnico metta addirittura la fiducia su un mille proroghe e poi in questo mille proroghe tra l'altro fa peggio di quando facevano i partiti della palute che hanno portato il paese in questo Stato, cioè infilando una clientela in Molise, un'altra clientela in un altro posto, insomma il mille proroghe diventa la solita operazione di routine con la quale la partitocrazia alimenta i vari clienti e mette in modo una serie di affarismi rispetto ai quali bisogna voltare pagina ed è la ragione per la quale voterò contro questo provvedimento.